C'è un proverbio che dice che non c'è peggior sordo che non vuol sentire. Questo signore si chiama Draghi. Non le manda a dire il presidente della Sibabruzzo Riccardo Padovano sulla questione delle concessioni balneariche dal 31 dicembre 2023 non saranno più valide. L'incontro di questa mattina a Roseto degli Abruzzi precede la discussione che con ogni probabilità ci sarà oggi in Consiglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di individuare nuove misure ad hoc. Se si apre un contenzioso, non è che non lo andiamo a fare con Draghi, che molto a me non ci interessa, ma lo faremo col primo cittadino del territorio, da primo cittadino poi al presidente della regione e via di vicenda. Immaginiamo uno scenario del genere, significa far morire il turismo balneare. Sospendono le critiche e attendono quello che verrà fuori dalla riunione, dicono associazioni e balneatori, ma la paura è quella di vedere operatori esteri impossessarsi di decenni di investimenti e sacrifici. Noi battiamo tutte le strade perché qui bisogna lavorare a 360 gradi, quindi per il momento tutte le piste sono aperte. la fuoriuscita della BOL che sta in ricorso alla Corte Costituzionale, altri progetti che stiamo facendo insieme al Ministro. Quello che a noi serve è che qualcuno ci ascolti semplicemente. Non oso immaginare se questa direttiva dovesse andare in porto, non credo ci voglia uno scienziato per capire che se io devo monetizzare su un'impresa che mi viene data a tempo, oltretutto ad un tempo anche piuttosto limitato, la prima cosa che faccio è che abbasso gli investimenti, magari aumento anche i prezzi per ottimizzare i guadagni. Questo penso che sia l'ABC di qualunque azienda. Grazie.